ciao cari seguaci del mio canale serie tv benvenuti nel mio canale non dimenticare di iscriverti al mio canale e condividere il video prima di passare al video divertiti keny aman ha stupito gli italiani sulla stampa italiana sono piovute le lodi la reputazione di keny aman in italia sta gradualmente aumentando il famoso nome che ha fatto di tutto per imparare l'italiano si è visto raggiungere un parlata a livello fluido nel suo ultimo video il successo di aman in italia ha attirato l'attenzione della stampa italiana ecco i dettagli keny aman che vive in italia da tempo ha guadagnato una grande popolarità nel paese tanto che una grande folla di fan si forma davanti agli hotel dove alloggia yaman e su yaman si trovano continue notizie sulla stampa italiana il bel attore che si è guadagnato una reputazione in italia forse anche maggiore della sua popolarità in turchia ha partecipato a molte produzioni in italia e reciterà in una nuova serie a brevissimo ora jean sta lavorando a pieno ritmo per il drama che interpreterà keny aman sta anche facendo del suo meglio per migliorare il suo italiano keny aman che da tempo prende lezioni private ha catturato l'attenzione della stampa italiana chi cosa uno dei principali siti web in italia ha pubblicato una storia sulla lingua italiana yaman ecco i dettagli affermando che keny aman ha fatto quello che si era prefisso e ha continuato a lavorare in italiano sul set della serie tv il sito ha sottolineato che il segreto dello sviluppo di keny aman dall'italiano erano le rime a chi è cosa che includeva la frase non sappiamo se keny aman rimarrà nel nostro paese in futuro ma è ovvio che ha imparato la nostra lingua è stata menzionata la lode a yaman con le seguenti frasi non appena quando keny aman arrivò a roma si innamorò della città e iniziò a imparare l'italiano ha preso diverse ore di lezione ogni giorno e si è anche allenato in famose espressioni e gesti facciali italiani ha imparato le rime in modo da poter dire le frasi più complicate ha imparato le rime in modo da poter dire le frasi più complicate in italiano senza impantanarsi in questo modo ha acquisito un italiano fluente e naturale il suo italiano è migliorato così tanto che userà la nostra lingua quando parlerà in serie tv film e pubblicità e sarà credibile l'attrice che si allena anche fisicamente per la serie sandokan sta davvero cercando di restare nel settore ora ha chiamato un gatto sul set del programma roscetto una tipica frase romana roscetto può essere tradotto come gatto rosso nella nostra lingua certo non parla come un nativo della sicilia ma ken è noto anche per sentirsi a casa a roma keny aman che ha condiviso l'ultima risata ha detto questo sul suo account instagram vivo in italia da circa 10 mesi e a questo punto della mia vita posso dire che roma questa meravigliosa città è dove mi sento davvero a casa keny aman ha avuto di nuovo un fuggi fuggi keny aman che vive in italia da tempo ha nuovamente causato una fuga precipitosa è stato difficile salvare il famoso attore che lo stava aspettando con decine di fan quando ha lasciato l'edificio keny aman ha incontrato l'intenso interesse dei suoi fan per le strade d'italia e ha causato una fuga precipitosa le fan di yaman hanno aspettato l'attore per ore l'amore degli italiani per keny aman che vive in italia da tempo continua a crescere yaman ha condiviso i momenti che ha vissuto con grande interesse per le strade di roma sul suo account social il giorno prima i tifosi italiani riuniti davanti alla porta da dove partirà keny aman hanno provato a far sentire la loro voce dal celebre attore keny aman ha conquistato il cuore di tutti in italia keny aman che vive in italia da molto tempo e ha firmato nuovi progetti nel paese è da tempo a palermo per il suo nuovo progetto della serie televisiva l'attrice con cui cn dividerà il percorso è francesca chilemi che sta lavorando duramente per il suo nuovo drama e stanno mostrando insieme la migliore interpretazione si sta sforzando di mostrare ai suoi fan la sua migliore keny aman nota anche per i suoi post sui social media sta attraversando un periodo molto impegnativo forte interesse per keny aman a palermo l'attore keny aman continua a pieno ritmo i suoi preparativi per la serie che si girerà a palermo viola come il mare dopo che le riprese del progetto sandokan sono state rinviate al prossimo anno l'attore sta valutando una nuova offerta è arrivata palermo con la notizia che le riprese del nuovo progetto della serie viola come il mare che matilde luca bernabèi prodotto in collaborazione con rti inizierà lunedì dato l'intenso interesse dei suoi fan all'aeroporto keny aman ha scattato molte foto e ha lasciato vedere la nota benvenuti a palermo sul suo account sui social media keny aman ha annunciato il suo nuovo progetto sui social la serie sandokan dell'attore keny aman che vive in italia da molto tempo era molto attesa tuttavia le riprese della serie sono state rinviate al prossimo anno quello che yaman avrebbe fatto ora era atteso con impazienza keny aman ha annunciato il suo nuovo progetto sui social media keny aman si stabilì in italia per la serie storica sandokan che gli fu offerta il giovane attore ha imparato da mesi sia il nome delle lezioni di equitazione che la complessità delle arti marziali per la serie ma la notizia che le riprese per il progetto sandokan sono state rinviate al prossimo anno prima che i fan di keny aman avessero la possibilità di essere arrabbiati per questa notizia è arrivata la notizia dall'attore che aveva firmato un nuovo importante contratto in italia è stato annunciato che keny aman reciterà al fianco della celebre attrice e modella italiana francesca killemi nel nuovo progetto della serie televisiva viola come il mare che sarà girato a roma e palermo e sarà prodotto da matilde e luca bernabèi lux vide insieme con rti sono iniziate le riprese della serie e keny aman ha condiviso il fotogramma del primo giorno di riprese con i suoi follower sul suo account instagram la killemi è descritta come una delle donne più belle d'italia e con il ruolo principale di keny aman la fotografia ha ricevuto migliaia di like dai fan di keny aman in pochissimo tempo cari spettatori il nostro video è terminato non dimenticare di iscriverti al mio canale e condividere il video per la continuazione di detti video a prestissimo ciao ciao ciao